Stiamo salendo a Vallebona Stiamo per visitare il borgo di Vallebona, un borgo a circa 4 km da Vallecrosia, in provincia di Imperia. Il borgo rurale, di origine medievale, si sviluppa prevalentemente in verticale, su un dislivello di circa 200 metri. Come molti borghi liguri, è caratterizzato da ripidi carruggi, porticati e scalette acciotolate, a tratti uno slargo o una piazzetta da un po' di respiro al salicendi. Dall'alto medioevo al XVII secolo fu proprietà dei conti di Ventimiglia. La chiesa di San Lorenzo, patrono del borgo, di epoca medievale, poi rifatta in forme barocche, conserva un bel portale quattrocentesco. Accanto svetta la torre campanaria, in pietra di epoca medievale. Dal 30 ottobre 2017, Vallebona è capofila del progetto europeo Arco del Benessere, che comprende 10 comuni del Ponente Ligure e il comune francese di Sorge, per la promozione di attività comuni dedicate a sport, benessere e corretti stili di vita. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.